Buonasera, torniamo ad occuparci oggi dell'indagine della Guardia di Finanza d'Imperia che ha portato ieri all'individuazione di un'organizzazione criminale legata al boss Matteo Messina Denaro. Le indagini hanno evidenziato come i malviventi abbiano cercato di infiltrarsi anche nel comune di Pieve di Teco, non riuscendovi grazie alla pronta reazione dell'amministrazione e uffici comunali. Oggi abbiamo incontrato il sindaco di Pieve di Teco, Alessandro Alessandri. Sindaco Alessandri, come commenta quest'operazione della Guardia di Finanza che ha toccato da vicino il comune di Pieve di Teco? Cosa dire, in merito a questi accadimenti noi siamo rimasti allibiti e molto sorpresi. Noi non abbiamo fatto altro comunque in questa vicenda che agire per l'interesse pubblico e sempre col buon senso del padre di famiglia. Dobbiamo sempre ringraziare la prefettura e le forze dell'ordine che vigilano su di noi e quindi in questo caso anche complimentarci per quest'operazione. Ecco sindaco, sicuramente tutela della legalità ma possiamo dire anche tutela indirettamente del territorio. Questo territorio bellissimo che è il nostro, che abbiamo noi, che abbiamo ricevuto proprio in eredità dai nostri padri, come si dice. Ecco è un prestito dei nostri figli, bisogna salvaguardarlo e tutelarlo e bisogna usare quello che ho detto già prima. Sempre di più gli amministratori, chi ricopre cariche istituzionali a qualsiasi titolo deve sempre più ispirarsi a quello che è il buon senso del padre di famiglia. Ricettazione e tentata corruzione di pubblico ufficiale. Queste le accuse che hanno portato all'arresto di due cittadini tunesini ora rinchiusi nel carcere di Savona. L'operazione è stata portata a termine dalla polizia stradale d'Imperia che nel corso di normali controlli ha intercettato e fermato un furgone con a bordo i due che trasportavano tre ciclomotori risultati rubati in Francia. I due stranieri hanno cercato di corrompere gli agenti per evitare l'arresto, ma gli è andata male, come ci ha spiegato Giovanna Lori, dirigente della polizia stradale Imperia. Sentiamo. Nell'ambito dei normali controlli sull'autostrada, operazione della polizia stradale. Allora sì, la polizia stradale è la sottosezione di Imperia Oves nell'ambito dei controlli sull'autostrada nell'area di servizio di Borsana. ha sottoposto a controllo quest'autocarro con a bordo due cittadini tunisini che trasportavano dei motocicli rubati in Francia nei giorni scorsi a Nizza. Sono stati sospettiti anche dall'atteggiamento dei due tunisini che comunque hanno offerto dei soldi al personale operante per essere lasciati andare e quindi hanno controllato il mezzo e controllato più approfonditamente i tre motorini che sono appunto risultati rubati in Francia. I due cittadini tunisini, uno residente in Italia e uno residente in Francia, sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria e sono stati condotti in carcere. Uno di loro aveva anche precedenti specifici in Italia per questo tipo di reato, sempre per furto e ricettazione di motoveicoli. Questi motoveicoli erano destinati? Alla Tunisia, al mercato tunisino. Loro erano diretti a Genova per imbarcarsi verso la Tunisia. A seguito degli accertamenti su una decina di pratiche urbanistiche avviate un anno fa dall'amministrazione comunale d'Imperia, il Comune Capoluogo ha ora affidato in carico ad una professionista per approfondire alcuni interventi realizzati sul territorio, in particolare in un servizio. Nei giorni scorsi il Comune d'Imperia ha disposto approfondimenti su cinque piani particolareggiati per valutare la congruità delle opere di urbanizzazione previste nelle convenzioni tecnico-urbanistiche. Si tratta di un seguito a una serie di controlli disposti un anno fa dall'amministrazione comunale su un totale di una decina di pratiche urbanistiche. I progetti in questione ora saranno esaminati dall'architetto pianificatore di arma di taggia Carla Del Mastro e fra questi spiccano la ristrutturazione dell'ex colonia biellese a cura della società Mare Chiaro SRL e l'edificazione di un complesso residenziale al Monte Calvario a cura della ditta Aurora SAS. I progetti potranno tenere nulla osta definitivo soltanto se il tecnico incaricato dal Comune sancirà la congruità delle opere di urbanizzazione eseguite a scomputo degli oneri di urbanizzazione. La Confcommercio ed Imperia torna sulla controversa entrata in vigore della direttiva comunitaria che disciplina le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari e questo proposito richiama l'intervento del suo leader nazionale e presidente della Rete Imprese Italia Carlo Sangalli. Il presidente Sangalli in merito ha infatti inviato una lettera al presidente del Consiglio Monti chiedendo che la norma venga abrogata in quanto la sua applicazione ha generato sconcerto ed ulteriore confusione tra le imprese, tra l'altro in un momento già particolarmente difficile dal punto di vista economico. Il problema del divario di retribuzione tra uomini e donne così come quello d'accesso al credito delle imprese femminili è un problema reale molto sentito. Lo ha sottolineato il consigliere regionale del PD Giancarlo Manti evidenziando che bene ha fatto Marusca Pieridda, presidente della Commissione Pari Opportunità, a portare all'attenzione del Consiglio regionale queste due tematiche con due ordini del giorno sottoscritti dallo stesso Manti. Alle imprese femminili infatti il credito è negato in misura doppia rispetto alle altre imprese e questo limita notevolmente l'imprenditoria femminile e di conseguenza l'occupazione e la crescita del PIL. Di contro le donne occupate spesso guadagnano meno rispetto ai loro colleghi maschi, nonostante la normativa sia più volte intervenuta per porre un limite legislativo a questa discriminazione. Gli ordini del giorno approvate all'unanimità in consiglio impegnano la giunta regionale ad intervenire attraverso l'ufficio della consigliera regionale di parità al fine di elaborare strumenti normativi e amministrativi necessari a ridurre il divario retributivo tra i generi, ad attivare iniziative per la conoscenza e la sensibilizzazione sul tema e a predisporre interventi educativi che aiutino a superare gli stereotipi di genere ed alimentare il divario retributivo tra donne e uomini. Domani ad Imperia nella sala del Comune tornerà a riunirsi il Consiglio Comunale dei Ragazzi. L'evento organizzato dal Comune e da Imperia TV sarà trasmesso in diretta dalla nostra emittente a partire dalle 9.30. Sentiamo. I ragazzi della scuola elementare e media di Imperia tornano domani a Palazzo Civico per una nuova seduta nel Consiglio Comunale dei Ragazzi. L'evento ideato alcuni anni fa da Imperia TV, quale momento di educazione civica, via via ha preso sempre più piede grazie soprattutto all'impegno dell'Ufficio Servizi Scolastici del Comune e al sostegno degli sponsor. Gli studenti, nelle settimane precedenti al Consiglio, eleggono a scuola i loro consiglieri e i loro candidati a sindaco. I candidati alla carica di sindaco sono poi chiamati a preparare un progetto su un tema specifico. Quest'anno si tratta di esporre ciò che si incontra nel cammino da casa a scuola proponendo soluzioni per rendere il percorso ancora più vivibile. Gli elaborati verranno poi messi ai voti e con essi l'autore. Il migliore elaborato decreterà quindi il nuovo sindaco dei ragazzi. L'appuntamento è per domani a partire dalle 9.15 nella sala consigliare del Comune e come sempre la singolare seduta consigliare presieduta dal commissario straordinario Sabatino Marchione sarà ripresa e trasmessa in diretta su Imperia TV. E come ampiamente previsto dai commentatori della politica locale, Officina Città e il Movimento di Giuseppe Fossati, candidato del FLI alle scorse elezioni politiche, andrà a sostenere la candidatura a sindaco di Arminio Annoni del PDL. L'accordo definitivo, dopo incontri con tutte le forze politiche, è stato chiuso nella giornata di ieri. Fossati, che ha evidenziato la condivisione dei programmi con il PDL, metterà i suoi candidati in una lista civica dello stesso Annoni. E il Movimento Imperia di tutti, Imperia per tutti, che aderisce alla coalizione Imperia con Capaccio, ha ufficialmente depositato la lista dei candidati per le prossime amministrative di Imperia. A fianco dei candidati già presentatisi alla città nelle precedenti competizioni elettorali, c'è un elevato numero di persone provenienti dall'area riformista e dalla società civile. Alta è la presenza femminile, superiore alla quota rosa prevista dalla legge, nonché di giovani impegnati quotidianamente nel sociale e nell'attività educativa. Età media dei candidati è di 45 anni. Fra i nomi che spiccano nella lista, quelli dell'ex consigliere comunale del PDL Angelo Pastorelli e dell'ex direttore dell'osservatorio meteorologico e sismico di Imperia, Nicola Podestà. Il Laboratorio per Imperia, lista civica, che fa capo all'ex sindaco Paolo Strescine, che sostiene la candidatura a sindaco di Carlo Capacci, presenterà ufficialmente i propri candidati giovedì sera. L'appuntamento è in programma alle 18 all'hotel Corallo e sarà presente anche lo stesso candidato Capacci. Sergio Migliorini è il nuovo segretario generale della CISL Liguria. L'elezione è venuta ieri sera a conclusione della due giorni congressuale del sindacato intitolata Sviluppo e coesione, la Liguria che vogliamo, che si è svolta all'hotel Regina Elena di Santa Margherita Ligure. Alla convention hanno preso parte oltre 200 fra delegati ed ospiti. Con Migliorini sono stati confermati in segreteria Luca Maestri Pieri, Cristina Balsamo e Marese Meneghini. Nuovi ingressi invece per Pierluigi Peracchini, già segretario generale CISL di La Spezia. Ne facciamo una breve pausa, poi la seconda parte del giornale. La Sacra Sindone e i Templari. Questo è il tema della conferenza in programma sabato a Pieve di Teco, a partire dalle 17, nell'oratorio di San Giovanni Battista. L'iniziativa, organizzata dal Comune di Pieve di Teco e dai Club Lions della zona, è stata presentata ufficialmente questa mattina in provincia a parlarci. Ne sono stati il sindaco pievese Alessandro Alessandri, uno dei relatori Mauro Giorgio Ferretti, presidente dell'associazione Centro Sudi Storici Templari e presidente dell'associazione Cavalieri Templari Cattolici. Sentiamo. Si sta preparando un convegno a Pieve di Teco. Quale sarà l'argomento? L'argomento è la peregrinazio della Santa Sindone da Gerusalemme fino a Torino e soprattutto l'intervento dei Cavalieri Templari che la salvarono dal sacco di Costantinopoli del 1204 e la adorarono in segreto per più di 100 anni fino a metà del 1300. Diciamo che si svolgerà in due turni. La prima parte si parlerà di questa peregrinazza dal punto di vista storico e la seconda parte invece dal punto di vista scientifico e lì si valuteranno tutti gli ultimi studi che sono stati fatti tra l'altro anche proprio in questi ultimi mesi in Italia da Professor Fanti e da sua equip che hanno ribaltato tutti gli studi risalenti all'88 in cui con la famigerata datazione del carbonio 14 che l'aveva considerata un falso medievale del 1200. Questi ultimi studi invece fatti su delle fibrille originali della Santa Sindone presa al centro del grande lenzuolo e non ai margini hanno verificato che la Sindone diciamo con un'approssimazione di circa 30 anni è dei primi decenni del primo secolo e quindi insomma è coeva all'epoca della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo. Qual è il collegamento della provincia di Imperia con la Sacra Sindone e i Templari? Quale può essere? Beh innanzitutto voi sapete che i Cavalieri Templari presidiavano fortemente tutta quest'area visto che loro presidiavano i porti e le vie di pellegrinaggio e le vie del sale quindi noi abbiamo scelto Pieve di Teco proprio perché ci sono diverse chiese templari tra cui quella dove si svolgerà proprio il nostro convegno ed era fortemente la presenza templare così come quella giovannita era fortemente presente almeno per 200 anni insomma quindi è chiaro che lì è un omaggio agli antichi martiri, i cavalieri del Tempio che come sappiamo tutti ormai non erano eretici ma erano martiri cristiani vessati da Filippo il Bello il re di Francia che voleva semplicemente i loro beni è sempre un problema di danaro anche allora Puoi ricordare ancora il nostro appuntamento per sabato? Sabato pomeriggio alle 17 nella chiesa di Santa Maria a Pieve di Teco in centro Pieve di Teco ci sarà questa nostra conferenza sulla Santa Sindone e i Templari fra Oriente e Occidente verrà preceduta il venerdì notte da una Santa Messa e da un'adorazione dei cavalieri templari cattolici in veste fino a l'una di notte ci sarà il Santissimo esposto in omaggio proprio degli antichi cavalieri Un grande evento per Pieve di Teco il 20 di aprile comunque un momento particolare dove i comuni hanno dei grandi problemi ma voi siete riusciti per amore della cultura a fare qualche cosa ma cosa avete fatto? Noi in questi anni abbiamo fatto tante cose proprio per l'amore della cultura col Teatro Salvini e con tanti altri eventi questo ultimo evento che è curato insieme con la collaborazione diciamo del Lions Club delle Alpi Marittime vede come oggetto questa proprio una i cavalieri templari e la Sacra Sindone è nato un po' diciamo l'anno scorso un anno e mezzo fa mi pare quando proprio il dottor Massimo Sasso mi chiese un libro che aveva visto che c'era la pubblicazione di un libro sulla nostra Arci con Fraternità della Buona Morte e mi dice sai lì bisogna intervenire perché ci potrebbero essere dei legami con i cavalieri templari e di lì è partita la cosa che poi si è sviluppata e ha visto il suo frutto in questo evento del 20 di aprile in questa giornata dove ci sarà la visita ai musei di Pieve e dintorni ci sarà ovviamente il convegno che è la parte centrale più importante che sarà poi chiuso con questo aperitivo offerto sempre dai nostri amici della associazione Vita in Riviera che ci seguono ormai sono dei nostri proprio sponsor affezionati quindi un giorno di grande cultura una giornata dedicata alla cultura alle bellezze di Pieve speriamo in una bella giornata in modo che ci possano essere tante persone che possano usufruire di questa nostra bella cittadina è stato donato questa mattina alla città di Sanremo da parte delle associazioni Mantieni il ritmo del cuore un altro defibrillatore che è stato posizionato in corso Matuzia alla Foce due strumenti salvavita sono già stati consegnati alla Polizia Municipale per la dotazione dei veicoli in servizio mentre gli ultimi due saranno in futuro collocati in zona Tre Ponti e in Via Palma alla Pigna il Comune di Sanremo ha ribadito la propria contrarietà all'istituzione del comprensorio per lo svolgimento associato del servizio taxi una posizione che sarà formalizzata venerdì dalla Giunta soddisfazione è stata superespressa dalla Confartigenato secondo cui il principio dell'extraterritorialità non migliorerebbe le condizioni del mercato sia per i tassisti sia per gli utenti questo perché ci sarebbero zone ritenute più redditizie che saranno privilegiate a discapito di altre che quindi rimarrebbero così scoperte nuovo incontro all'imperio sui temi della legalità tra Polizia di Stato e circa 30 bambini della classe terza elementare dell'Istituto Nostra Signora della Misericordia la lezione è stata tenuta dai commissari capo Adriana Di Biase e Simone Macri con il contributo dei poliziotti di quartiere di personale specializzato della scientifica nell'occasione sono stati spiegati i compiti della Polizia ed illustrate le attività della Questura prossimamente gli stessi alunni che hanno ricevuto anche dei gadget della Polizia saranno accolti presso gli uffici della Questura per una visita guidata sarà portato in scena domani sera al Teatro Comunale di Ventimiglia alle 21 lo spettacolo teatrale incentrato sul tema della violenza alle donne rappresentato di recente anche al Principato di Monaco lo spettacolo contribuisce e costituisce un viaggio nel mondo femminile nel suo dolore nelle sue sofferenze ma anche nelle sue speranze e prosegue ad Imperia la fase comunale dei giochi sportivi studenteschi il palazzetto dello sport di Imperia ha ospitato le gare di pallavolo femminile per istituti di secondo grado che hanno visto la vittoria del liceo scientifico Viestie il torneo di calcio a 5 riservato agli istituti di primo grado invece visto il successo dell'istituto comprensivo Littardi bene ora come sempre ci occupiamo dei cantieri sull'autostrada dei Fiori e del quadrometrio questi i principali cantieri lungo l'autostrada dei Fiori da lunedì 15 a domenica 21 aprile in direzione Francia careggiata nord fra Savone e Spotorno careggiata a doppio senso causa lavori sulla careggiata opposta da lunedì 15 a giovedì 18 anche notturno fra Feglino e Finale riduzione della careggiata da 2 a 1 corsia per ampliamento impianto tv circuito chiuso in galleria Bracciale da lunedì 15 a venerdì 19 tra il Benghe Andorra riduzione della careggiata da 2 a 1 corsia per ampliamento impianto tv circuito chiuso galleria Briccarpicella da mercoledì 17 a venerdì 19 fra Imperia Est e Imperia Ovest scambio di careggiata per adeguamento antisismico e rifacimento giunti via Dotto Impero da lunedì 15 a domenica 21 anche notturno in direzione Genova careggiata sud fra Imperia Ovest e Imperia Est careggiata doppio senso causa lavori sulla careggiata opposta da lunedì 15 a domenica 21 anche notturno fra San Bartolomeo al Mare e Andorra riduzione della careggiata da 2 a 1 corsia per adeguamento barriere di sicurezza e mitigazione acustica via Dotto Rinovo da lunedì 15 a domenica 21 anche notturno fra Andorra e Albenga riduzione della careggiata da 2 a 1 corsia per ampliamento impianto tv circuito chiuso galleria Bracciale da lunedì 15 a giovedì 18 tra Fellinale e Feglino riduzione della careggiata da 2 a 1 corsia per ampliamento impianto tvcc in galleria Bracciale da lunedì 15 a venerdì 19 fra Spotorno e Savona scambio di careggiata per rifacimento giunti via Dotto Crovetto da lunedì 15 a giovedì 18 anche notturno e ancora riduzione della careggiata da 2 a 1 corsia per rifacimento giunti via Dotto Crovetto venerdì 19 e sabato 20 anche notturno vediamo le previsioni del tempo elaborate da Arpal a metodo Liguria domani giovedì 18 aprile lo scenario meteorologico non cambia si prevede ancora bel tempo e sole appena disturbato da qualche innocuo passaggio nuvoloso umidità su valori medi venti occidentali deboli o a tratti moderati localmente in regime di brezza il mare sarà poco mosso o quasi calmo nessuna segnalazione di protezione civile dopo domani venerdì 19 aprile una perturbazione in arrivo dalla Francia porta a un lento peggioramento la mattinata sarà ancora l'insegna del sole ma nel pomeriggio avremo addensamenti via via più consistenti in serata non mancheranno deboli piogge o rovesci umidità su valori medio-bassi venti deboli orientali o regime di brezza il mare in aumento fino a mosso sul centro ponente anche in questo caso nessuna segnalazione di protezione civile ed è proprio tutto grazie come sempre per averci seguito ci sentiamo alle prossime edizioni buonasera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti